Apertura numero 24, 21-18, 10-13 e 26-21 è una 2N perché con la 13-17, poi ci sono anche alcune altre varianti che si possono vedere, con 13-17 si costringe il bianco a giocare intanto col biscacco debole e poi a metterlo in seria difficoltà successivamente, vediamo. Con 12-15, allora il maestro dice che si rientra in una 22-18? No, all'inizio, vabbè. Con 12-15 subito, ok. Vabbè, per adesso non ci interessa. Comunque, adesso proseguiamo con 12-15 e 23-19, 8-12, 28-23, 6-10, 31-28, 2-6. Questa è la condotta da seguire, 23-20, si minaccia il tiro, tipo questo tiro qua, e quindi il nero fa a sua volta il cambio. Cattura 5-14, 28-23, mossa non facilissima, non so, con 20-16 si pareggia ugualmente. Adesso c'è questo cambio. E anche questo è un bel cambio doppio. E così si arriva più o meno alla patta. Qua ci sono le 2x2, c'è la possibilità di 2x2. Io però volevo vedere come si rischia di perdere. Non lo so, per esempio, arrivati a questo punto, dopo 28-23, 6-10. Allora, intanto, si potrebbe essere tentato di fare 32-28, ma vediamo che è perdente perché il nero lega subito la posizione del bianco. E qui non ci sono più mosse. Con questa c'è il tiro. Con questa c'è quest'altro tiro. Posso mangiare anche di qua, perdo la partita. Quindi, la 32-28 è perdente subito. Quindi, la 31-28 sembrerebbe essere l'unica. 23-20 è debole, che costringe a sdamare. Forse si patta, però, sinceramente, no, adesso non si patta più. Dunque, un attimo, allora. Che il programma me la dà patta, successivamente invece me la dà perdente. Adesso me la dà pari, adesso me la dà subito perdente. Effettivamente, dopo questo cambio, sembra perdente. Non ci sono più possibilità per il bianco. Ecco, questa è un'apertura che è bene sapere col nero perché è facile vincere già all'inizio proprio. Adesso, qui non era proprio immediata la vittoria. Nel senso che bisogna, ecco, fare innanzitutto la 10-13. Con 10-14, per esempio, si mette bene il bianco. Quindi è importante fare 10-13. In questa posizione non è proprio detto che venga eseguita. Bene, è da studiare anche questa. Io però avevo visto anche qualcos'altro prima, non so se mi ricordo, forse dopo queste mosse qua, dopo 31-28. Ecco giusto, il cambio 23-19. Al posto di 23-20. Se facciamo 23-19, allora mangiando di qua non abbiamo mosse d'attesa ed è persa subito. Invece, se mangiamo di qua, si perde a poco a poco. Si perde a poco a poco perché, cosa possiamo fare qua? Possiamo dare questo cambio, però poi dopo c'è la minaccia del tiro 13-18 ed è persa. Qua non posso più difendermi. Invece, se faccio 19-14 insistendo a portare pezzi al centro, qua dopo questo cambio perdo il pezzo, oppure cosa potrei fare? Con questa, c'è la 12-16, 23-19, non la fa neanche il programma, che si va a perdere. Qua c'è il tiro. Se faccio 30-27 c'è l'attacco. Niente, non c'è più nulla da fare. E ho perso il pezzo e niente. Insomma, diciamo che il nero è fortissimo in questa apertura, ma deve giocare bene. Quindi comunque un minimo errore del bianco va sfruttato conoscendola con il nero, ecco. Quindi qua bisogna fare per forza la 23-20. Adesso rivediamola come si gioca. 2-6. Questa 28-23 non fa proprio facilissimo. Io forse sarei tentato di fare o 20-16 o subito il cambio 18-13. Che va bene, insomma. Ecco, se attacco, poi c'è questo tiro a 2. Finale non ancora deciso. Adesso qua non so qual è la migliore. Questa era patta, era fattibile questa mossa che ho fatto io. Vediamo cosa fa il programma. Da questi cambi, vabbè. Poi questo tiro, insomma. Le possibilità sono tante, però almeno l'abbiamo portata in pari. Non saprei se ci sono altre possibilità. Va giocata così, col bianco. Si può, ovviamente, fare anche 20-16. Qua. Questa è un'altra variante ancora. 28-23. Si fanno le due. Qui su 10, sull'attacco 10-14. Cosa si fa? Questo cambio. E poi ci c'è il tiro di seconda. Qui addirittura il nero perde un pezzo. Non ha tanto senso. Se no, non so se il nero variasse. Beh, intanto qua, per dire, la 5-10 è una mossa abbastanza inutile. Intanto qui, volendo, il bianco può anche fare le due. Seppur il nero si mette bene. Quindi le due è meglio che non le fa. Sto proprio guardando tutte le possibilità. Vabbè, il maestro mi guarda male, ma... Quindi... Qui la mossa da fare è comunque 31-28. 1-5. 23-20. 10-13. E poi questo cambio. Ecco, questa è un'altra variante che può anche capitare. Non era più forte, ma... Per il nero, diciamo. Però potrebbe anche capitare. Rende la vita più facile al bianco. Se no, vediamo. All'inizio, il maestro diceva... Dunque, se al posto di 13-17, qua facciamo 12-15, rientra in una 22-18, diceva. Cioè, così, praticamente. Giusto? Anche se, a mio avviso, non l'abbiamo neanche messa nel libro perché a me sembra inutile proprio per il nero. Poi non so cosa si può giocare di forte. Rientra nella 22-18, 12-15, 26-22. Dice che nel libro c'è, però non è segnalata. Ah, no, 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 invece c'è. Vedi che c'è sempre tutto, non manca mai niente nel libro. Magari. Vabbè, la vediamo subito allora, dai. Quindi, questa 23-19, poi andiamo avanti. Con 13-17, mettiamo due giocatori. Così, ecco. 28-23, 5-10. 23-19, 7-12. 32-28, 10-13. 28-23, 13-17. E' interessante perché qua c'è il ribattino. E' una variante minore perché col nero è evitabile. Però può anche essere giocata se si affrontano avversari di alto livello. Che sanno bene le prime mosse da fare col bianco. Non è il mio caso. Adesso vediamo qualcos'altro. Sempre con 12-15. Allora, a questo punto... Tiro... Dice tiro subito. Perché non va bene? C'è il tiro subito? Perché non l'hai fatto? Quindi... Non va bene... Non va bene fare questo... Ah, ok, giusto. Cioè, quindi non è un tiro forte per il bianco, intende dire. Questo qua. E comunque impari la posizione. Forse è più difficile. Semplifica molto anche. Va bene. E quindi che facciamo? Vabbè, abbiamo già vista questa variante. La chiudiamo qui. Vediamo la 6-10. Mossa secondo me con poco senso. Non so cosa può scaturire. La vediamo. Adesso. Allora, c'è questo tiro. Poi il bianco riprende il pezzo. Però, ecco, c'è la 1-5. Viene portata in gioco. E qua, non lo so, farei 11-14. Ma... No. Decisamente no. Non va bene. No, 10-13. Comunque sembra una posizione di patta. Se faccio questa, obbligo il bianco a fare la 30-26. Anche se, secondo me, non è neanche così necessaria. Perché si può anche fare questo cambio e fare dama da ambo le parti. Addirittura questa è perdente, quindi non fatela. Il bianco rimane senza mosse. Cioè, se attacca, per esempio, qua... Il nero chiude, vediamo. Sì, è vinta dal nero, anche se non si vede subito. Però adesso si vede. Adesso si vede. Niente. E allora. Torniamo indietro. Vediamo sempre questa. Si gioca così, insomma, dai. Non ci sono grosse possibilità di variare. Se faccio la 12-15, poi c'è la 21-17 per il bianco. Poi io indebolisco il biscacco. Che poi non viene neanche fatta la 21-17. Perché c'è il tiro. Che mette bene il nero. Sì, 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 sì. È come prima. Qua verrebbe invece fatta la 28-23. 10-14. In realtà poi... Sì, il biscacco debole. Però è anche vero che il bianco ha già mosso dei pezzi dalla parte del suo cantone. Quindi non saprei. C'è sempre la possibilità di 13-17. Se qua il bianco non può fare questa mossa, anche se volendola può anche fare. Va sempre a indebolire il biscacco, però... E dopo la mette in pari. Vabbè, non starei a perdere troppo tempo su questa variante. Perché per il nero è abbastanza difficile avere dei vantaggi con la 6-10. Qua io ho visto anche queste 2x2, ma... La mettono in pari lo stesso. Torniamo indietro. Vediamo velocemente anche la 5-10 del nero. Quindi in posto di 6-10. Qua 5-10. Ecco, questa 5-10 permette la 21-17 al bianco. E siamo rientrati nell'apertura numero 1, a quanto pare. Sì, sì, giusto. Siamo sicuri che siamo rientrati nella 1? A me non sembra. Adesso vediamo. Rimettiamoci dalla parte di bianco. Allora. L'apertura numero 1 sarebbe questa. Per rientrare però come facciamo? Ah, nella 2, ecco. Infatti mi sembrava più vicino alla 2 come somiglianza. Infatti con la 2 c'è questa, poi questa e poi questa. Bisogna muovere la 26-21. E poi infatti c'è anche questa possibilità. Mi ricordo, vedete. No, non era questa. Aspetta. C'è dopo. Aspetta un attimo. Ho sbagliato tutto. No, vabbè. Qua c'è il cambio. Sì, siamo rientrati nella 2 ma nella variante principale. Se non sbaglio, eh. No, quel tiro con l'apertura numero 2 si può fare solo dopo questa, sì, questa e questa. Ecco. Questo è il tiro. Sì, adesso ho sbagliato. Poi questa, questa e questa. Tiro che comunque mi sembra vantaggi il bianco, se non sbaglio. Maestro che dice. Però è un finale giocabile, eh. Molto carino. Io sinceramente... Allora, se blocchi la dama, avvantaggia il nero. Quindi, fermo un attimo. Allora, avvantaggia il nero se blocchi la dama. Se blocchi la dama bianca. Se blocchi la dama nera, scusa. Ah, non va bloccata. Perché se no avvantaggia il nero. Ok. Comunque siamo fuori... Siamo fuori... Siamo off topic. L'argomento era un'altra apertura. In questa non credo ci si possa rientrare dalla 24. Comunque così si gioca meglio a questo finale. La 24-20 sarebbe da ricordare, dice. Comunque siamo andati fuori tema. Sì, praticamente... Non va bloccata la dama nera. Dopo l'auto 12, 28-24... La 24-20. Che poi 24-20 è tutta da vedere. Cioè, 12-16... Mica è facile adesso. Intanto adesso c'è... Allora, se la dama fa l'occhiale, cosa succede? Ah, c'è questo tiro. Bellissimo. Non l'ho proprio visto. Quindi il nero perde la dama. Ottimo. Ok. Però, se il nero non ci casca, bisogna poi fare delle mosse attente. È da tutto da studiare sto finale, veramente. È una cosa... Questo non lo sapevo. Devo dire la verità. Non nasconde tante cose che ho tralasciato. Ok. Così è messa in pari. Anzi, è anche difficile per il nero che deve fare dama. Allora, in modo dell'altro ce la fa perché ha un pezzo in più e... Con una dama sola, da un lato, non si può bloccare tutto. Ok. Vabbè. Comunque, tornando alla 5-10, che bene o male l'abbiamo vista. Cioè, la nostra apertura inizialmente era 21-18, 10-13, 26-21, con la 5-10, 21-17. Si rientra in una variante dell'apertura numero 2. E poi va giocata alla 11-14, come abbiamo visto. Qua 22-19. Anche se io sarei più propenso a fare la 23-19. 32-28. Qua però c'è questo tiro. Si, ok. Tiro 3 di seconda. E un prefinale pari. Non so neanche se è il caso di insistere. Vediamo qualcos'altro. Tipo, qua facciamo 22-19. Ma qua le possibilità sono tante. Si può fare forse anche 29-26. Poi 26-21. Anche così è subito messa in pari, anche se il bianco è più sbilanciato. Quindi per il programma è facile, per un giocatore umano un po' meno, secondo me. Altrimenti la 22-19, rivediamo. C'è 6-10. Mossa abbastanza difficile. Molti qua farebbero 13-18, secondo me. 12-15. Anche qui il bianco, vabbè, che non ha tantissime possibilità. 24-20. Intanto, vabbè, la 2x2 non conviene. Non conviene anche perché qua il bianco si apre molto spazio. Addirittura potrebbe fare anche questo tiro. Ok, va bene. Sembra che non ci sia nulla di interessante. Però il nero ha dovuto aprire i varchi dal cantone. A gioco corretto, sembra non ci siano pericoli. Se viene in mente qualcosa al maestro di questa variante, tipo qua King farebbe 6-11. Io non ho capito il senso. Poi c'è questo cambio. Qua le varianti sono tante perché siamo rientrati nell'apertura numero 2. Come si sa, il 21-17 nascondono tante varianti. Quindi il maestro che dice, possiamo fermarci? C'è qualcos'altro della variante iniziale. Con 5-10 poi mi sembra anche proprio che non si rientra nella Danny. Che mi sembra questa. Forse sbaglio, eh. Fermo restando che io non varierei col nero, perché il bianco si mette male. Così per esempio il bianco, il nero vince. Cioè il doppio cambio è perdente. Praticamente fare questo, questo prendere questa specie di meta è perdente. Perdente perché poi su questo attacco noi non possiamo difenderci. Oppure se andiamo qui per dire tiro di seconda compresa finale cambio finale vantaggioso quindi non c'è più niente da fare. Oltretutto il bianco ha perso un pezzo. E cosa si fa? 23-20 28-19 12-16 o 15 non lo so 12-16 prima Ok Cos'è successo? Allora 20-15 facciamo 20-15 16-20 direi o 7-12 leghiamo tutto 32-28 16-20 Difficile così anche per il nero eh Ha poco senso a poco senso Così però è vinta per il nero è assurdo cioè un attimo allora con quel cambio facciamo fare le mosse a king dai veloce che direi che è un'apertura non facile che anche nel prefinale nasconde delle possibilità di vittoria e secondo me non è neanche facile leggerla la vittoria secondo me poi se si ha una ottima analisi si si legge a me molte possibilità di vittoria anche col nero qua sfuggirebbero cioè qui per esempio bastava un errore anche qui cioè con il bianco che sembra controllare tutto il centro però qua fa le 3x2 eh no allora dove eravamo qual era la mossa perdente per il bianco adesso non mi viene più a questo punto 32-28 16-20 e fare il 27-23 a cambio che poi avevo pensato anche a questa a cui però seguirebbe la 12-16 oppure questo sacrificio mette bene il nero anche questa che adesso io devo fare così però poi dovrò muovere dopo il cambio sulla mossa d'attesa espongo altri pezzi e qui il nero vince perché il bianco è pezzi esposti quindi insomma anche così il bianco è in difficoltà va bene possiamo fermarci qui direi quindi avete un po' visto la difficoltà di questa apertura la prossima credo che sarà un'apertura la numero 25 un'apertura pari quindi un po' meno impegnativa di questa alla prossima ciao